Amici ascoltatori e telespettatori, oggi andiamo a promuovere le tradizioni, i mercatini di Natale e la bellezza di Cantalupo insieme a questa bella ragazza e a tutti i suoi prodotti artigianali. Ciao, sono Michela e siamo qui aspettando il Natale per i pensierini, i regalini. E qua vedo tante belle cose, ad esempio questo, che cos'è? Questo è un orsacchiotto per i bimbi, tutto cucito interamente a mano. E' bellissimo, io consiglio sempre di fare i regali questi un po' più tradizionali, quelli fatti con le mani, quelli che vengono.